Musica Dopo la sconfitta intera Toscana da parte della Mariglianese Cattolica 1923 sul campo del Real Forte Querceta, i giallorossi tornano a Calvi dove c'è da battere i tabù vittorie interne. Infatti l'unico urrà è arrivato solo in esterna sul campo della San Maurizio. L'avversario si chiama Mezzolara, arbitra la gara e il signor di Renzo della sezione di Bolzano. La via è di marca ospite, dopo un errore in fase di impostazione degli uomini di Lilli. In Mezzolara tra le squadre più concrete e gradevoli di questo primo squarcio di stagione prova ad approfittarne con Rosselli che dalla distanza reca più di un brivido al debuttante Mariani, classe 2001. Colui che ha sostituito in questa domenica il portiere Piai con i quali il club ha interrotto il proprio rapporto in maniera consensuale. Orfani di Goh, Mosso e Manuzzi, la marianese cattolica 1923 risponde fin da subito e lo fa in maniera egregia. Rizzitelli porta a spasso il pallone e appoggia per Soh che elude l'intervento del diretti marcatori prima di insidiare la porta difesa da Malagoli, il quale risponde da campione distendendosi alla propria destra. Onde? Evitare pericoli maggiori. Primo piano per Soh. In mezzo l'ala si getta nuovamente in avanti, la discesa di Rosselli viene sporcata di testa da Nodari sul piede caldo di Rizzi. Mariani è bravo né di stendersi e rifugiarsi in corner. Da punizione Soh porta avanti il pallone e scarica laddove Malagoli non corre pericoli. Se di punizione si parla, quella del mezzo l'ala rischia di far male. Il calcio di Selleri innesca la testa di Nodari che nel tentativo di allontanare la sfera favorisce inconsapevolmente dall'osso la cui volei termina di un nulla al lato, primo piano anche per il numero tre ospite. E quando il gol sembra cosa fatta, sul fio del fuorigioco Broglia si divora l'occasionissima per il vantaggio. Mariani risponde presente, davvero bravo. Ma nel momento in cui il portierino acquisisse sicurezza, arriva la traiettoria beffarda di Ferretti. Tiro dalla distanza che inganna l'estremo di casa, disturbato in modalità visuale. Sarà questo il gol partita che rivediamo. Ferretti alla fine riceve il meritato abbraccio da parte dei propri compagni di squadra. A 44esimo, in chiusione di tempo, si divora il pareggio su. Sul cross della sinistra l'attaccante è liberissimo di punire al centro dell'area di rigore, ma il suo colpo di testa è una chiamata per Malagoli. Squadre a riposo sullo 0-1. Nella ripresa succede poco o nulla. Le azioni salienti accadono al minuto 11 quando Artioli porta avanti il pallone senza essere attaccato. Appoggia la sfera nei piedi Selleri, il quale con la quadra dell'occhio vede libero Rosselli, ma il numero 8 trova precisione ma non riesce a dare forza necessaria per battere Mariani. La replica dei giallorossi avviene con una strepitosa parata di Malagoli. Sul colpo di testa era avvicinato di So, il suggerimento è a cura di Biaic. L'ultima azione del match scaturisce proteste. Siamo al minuto 26 quando So ruba palle e si invola verso la porta avversaria. La difesa del Mezzolara interviene in questa maniera. I giallorossi recriminano il direttore di gara. Simone Di Renzo, Di Bolzano fa segno di proseguire. Il replay a velocità moderata ci reca un secondo assaggio dell'intervento. Occorre dire che la visuale del direttore di gara non ha nessun disturbo. Di Renzo appare ferrio, sicuro di quanto visto e decide per la non accennazione del penalty. Un terzo replay ci chiarisce forse i dubbi inerenti all'intervento o meno pulito della rettoguardia del Mezzolara. Termina qui una gara che vede un passo indietro sul piano del gioco da parte dei cattolichini. In mezzo all'ala con il minimo sforzo e con maggior cinicità confezione il pacchetto chiamato tre punti.